E ruba ma regala una valanga di metri al resto del gruppo, stessa cosa fa anche Renegade Grave. Macchina che se ne va, Ruditz scatta al comando, guida davanti al Rock del Sile, poi ruba cuore all'esterno Roscoff. Questi i primi quattro, 200 metri in 14.4, con Ruditz che ha assunto l'iniziativa guida davanti al Rock del Sile. Ora l'immagine ritorna finalmente sui primi, Ruditz in vantaggio, Rock in seconda posizione, in terza ruba cuore, in quarta posizione il 4 di Ricasoli. All'esterno il 5 invece di Roscoff. 600 metri iniziali in 46, con la coppia di testa Ruditz e Marco Cusinati che va a affrontare la curva del caffè a 900 metri alla conclusione, sempre in vantaggio e sempre seguita da Rock del Sile, ruba cuore. Il gruppo cerca di formarsi in più pariglia alle spalle dei primi due, 1-2-6 i primi 800 metri, i quanti cavalli vanno all'attacco della retta dell'arator, ormai quella di fronte all'arrivo, con Ruditz che conduce davanti al Rock del Sile. Nulla muta e Ruditz completa il primo chilometro da leader, lo passa in un tranquillo 1-18, guida la corsa davanti al Rock del Sile, ruba cuore all'esterno. Numero 6, Rumba va, squalificato. Rimane. Piegata conclusiva con Red Fire Fork che, come dicevo, è rimasta all'esterno ora in quarta posizione, in terza così avanza il 5 di Roscoff, squalificata Rumba va. Numero 4, Ricassoli, squalificato. Sbaglia al 4 di Ricassoli, squalificato, addirittura con Ruditz seguito da Rock del Sile. I due fanno l'arrivo molto appaiati, Rock del Sile va su Ruditz, l'attacco lo coglie, leggerissima difficoltà, arriva vicino, ma sul traguardo è il momento di Lorenzo Besana che con Rock del Sile stampa probabilmente Ruditz al terzo posto, finisce il 2 di Ruba cuore. E' il momento del giovane Besana che segue lungo tutto il percorso. Il Battistà da Ruditz, come vedete, lo stampa, lo incanta. In 15-9 di precisione si regala nuova vittoria. L'1 al primo posto, al secondo posto il 3 e al terzo posto a completare l'attrio dopo il percorso lungo il paletto, il 2 di Ruba cuore. 1-3-2, Rock del Sile, Lorenzo Besana alla guida per il training da programma di Massimiliano Monte, i colori della scuderia Giulio, Lorenzo Besana, ancora una volta vincitore. Da Villanova per la seconda è tutto.